Buongiorno, sono Roberta Ravellotti e sono professoressa di economia politica all'Università di Pavia. Faccio parte della community Centro Esperte nel settore economia. In questo breve video vi voglio parlare di quelle che secondo me sono alcune sfide che dobbiamo affrontare nel prossimo futuro, un futuro di cui sappiamo ancora molto poco. Credo che in primo luogo abbiamo bisogno di una politica di migliore qualità e abbiamo bisogno di politici capaci di prendere decisioni e di realizzarle. Abbiamo bisogno di politici capaci di investire in istituzioni in grado di prevenire e di gestire crisi come quella che stiamo vivendo e come la crisi ambientale e soprattutto politici capaci di andare al di là del brevissimo periodo che finora ha dominato nelle scelte della politica. In secondo luogo abbiamo bisogno di politici capaci di imprimere una svolta alla ripresa economica, sicuramente sostenendo le imprese in difficoltà ma anche offrendo risorse alle condizioni che queste vengano utilizzate per trasformare il sistema in un sistema sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale. Infine abbiamo bisogno di più donne, abbiamo bisogno di più donne nel sistema politico, nella pubblica amministrazione, nel settore privato e in generale nel mercato del lavoro. Il talento e le competenze delle donne finora sono state spesso inutilizzate e se vogliamo che la ripresa avvenga e soprattutto che questa sia un'occasione per andare verso un sistema migliore è necessario che queste risorse siano utilizzate al meglio e che il capitale umano e il talento delle donne del nostro paese non siano più sprecate. Grazie.